Intervento nel cuore della notte di una squadra di Vigili del Fuoco a Fano in via Francesco Palazzi alle spalle della Caserma Paolini. La squadra proveniente da Pesaro è dovuta intervenire per un contatore dell'energia elettrica andato a fuoco attorno alle 3 della scorsa notte. Il quadro elettrico fortunatamente si trovava all'esterno della palazzina all'altezza del civico 79 e quindi le fiamme, grazie anche al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, non si sono estese ai vani interni delle abitazioni. Sulle cause che hanno innescato le fiamme si stanno svolgendo approfondimenti, ma da quanto potuto appurare dai primi rilievi la causa potrebbe essere nell'umidità e nella condensa che si era formata all'interno. Infatti in quel momento era in corso su Fano un violento temporale con pioggia battente che avrebbe causato il cortocircuito nell'apparecchio. Assieme alla squadra dei pompieri durante le operazioni di spegnimento sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine carabinieri ed una volante del commissariato. Questa mattina poi una squadra dell'Enel ha provveduto in sicurezza a ripristinare il contatore e la linea elettrica sullo stabile.